Buonasera, la partita nel primo tempo era molto equilibrata, poi probabilmente, sembra banale dirlo, però insomma il gol di Moreau ha poi cambiato tutta la prospettiva che il giudizio dà alla prova della sua squadra e insomma si è d'accordo? No vabbè, dico due cose, permettetemi di non andare oltre, nel senso che parlare della partita oggi non voglio, parlerò con i ragazzi, chiedo scusa e chiediamo scusa al Presidente, ai tifosi che sono venuti oggi qui, tifosi che hanno seguito da casa e dobbiamo lavorare, basta, poi tutto il resto ne parlerò logicamente con la squadra della mia gestione della prima partita che abbiamo veramente non giocato all'altezza e come ho detto prima chiediamo scusa a tutti, dobbiamo lavorare e cercare in qualsiasi modo uscire da questa situazione, va bene, grazie, scusate ma è inutile parlare di altre cose, va bene, grazie, complimenti al Pisa che ha fatto un'ottima partita.